Ciao a tutti ragazzi, qua Cicciobag97 e volevo dirvi una cosa, volevo iniziare questa nuova grandissima, io ho un microfono alto, volevo iniziare questa serie nuova, che stanno le short di Cicciobag97 e vi farò vedere, vi farò vedere qualche short, qualche roba, qualche aneddoto che mi è successo, qualche aneddoto che mi è successo in qualche partita, quindi non di te, i video fanno schifo perchè sono corti, sono i video corti, fanno schifo, no, perchè sono fatti apposta ad essere corti. E' una formichetta! Cicciobag97 Che fallo, ho lasciato le rune a cacco magico io. Noo dai che fallo, che va bene! Perchè? Io ho lasciato quella di... Davvero? Si Cucu Cucu Eh, vinciamo noi, vado tanto! C'è! Oh! C'è, raga, che... non farmi fare l'esecuzione no no ciao oh ma dove ne fa? ah si è il tuo ahahah 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 arriva non ce l'ho fatta ahahah 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 eccomi qua sono mancato vero addio buono sti funghi c'è qualcuno qua? eh che arriva è troppo forte porca mia oh oh c'è un phantom tranquillo qua ci sei ancora? ok sto parlando solo ok sto parlando solo